Allora io ho ripreso dall'infortunio, ho ripreso ad allenarmi con la squadra già da regolarmente quindi io mi sento bene fisicamente, l'unica cosa dovrò prendere un po' di minutaggio domani sarà una buona occasione per farlo e quindi cercherò di farmi trovare pronto per quando verrò chiamato in causa Io sto lavorando per questo, sto lavorando per trovare la continuità negli allenamenti e poi successivamente prendendo minutaggio ritrovarla anche nelle partite quindi l'obiettivo è questo ed è importante riuscire a ritrovare questa continuità appunto La squadra ha trovato una solidità, all'inizio era normale avere delle difficoltà perché è un campionato difficile, io questo giro ne l'ho già fatto e qualsiasi squadra ti può creare problemi però con il lavoro e la costanza abbiamo ritrovato una solidità il gruppo si è compattato e questo ci ha portato a risultati È importante lavorare giorno per giorno avere obiettivi brevi che ci stanno portando a risultati quindi prepariamo bene le partite adesso, abbiamo preparato quella di domani prepareremo bene quella di domenica e così settimana dopo settimana io sono sicuro che questa squadra può fare tanto Guarda, io in attacco ho fatto tutti i ruoli quindi ho fatto sì, anche la seconda punta quindi io mi posso adattare in qualsiasi posizione tanto i concetti li conosco ed è importante esprimere i concetti che vuole l'allenatore poi deciderà lui dove collocarmi quando mi farà giocare Grazie per la visione